Non esiste un'alternativa alla chiusura dei tribunali minori se non quella di una proroga dell'entrata in vigore della riforma giudiziaria. Spetta al nuovo governo dunque decidere di sospendere gli effetti del decreto legislativo approvato a settembre 2012 con una proroga di un anno. Se ne sta discutendo molto in questi giorni, soprattutto dopo le iniziative dei vari comuni italiani per mantenere in vita le sedi distaccate destinate alla chiusura e l'impegno preso dai politici di zona. Ernesto Magorno, neodeputato del PD, unico rappresentante dell'alto di Reno Cosentino al governo, ha parlato di buone probabilità sulla decisione favorevole del nuovo ministro di Grazia e Giustizia, Anna Maria Cancellieri. La proroga, se ci sarà, come io mi auguro, stiamo lavorando in questa direzione, un gruppo di parlamentari delle più diverse parti politiche, sarà certamente per le sezioni staccate e per i tribunali. Per i giudici di Baggio è un'altra questione. I presidi della giustizia non sono nel Mezzogiorno d'Italia, in maniera particolare nel Mezzogiorno d'Italia, ma anche in tutto il resto del paese, sono dei presidi dello Stato. Dove ci sono i tribunali, le sezioni staccate, è più forte la presenza dello Stato. Non possiamo ragionare in termini ragioneristiche. Io credo che uno dei danni fatti dal governo Mondi, ed è un metodo che dobbiamo debellare con il nuovo governo, è quello di aver immaginato che ogni servizio debba essere condizionato dal costo. Perché ci sono alcuni servizi che hanno dei costi sociali e la giustizia è uno di quei servizi che deve avere un costo sociale. Ecco perché io penso che intanto dobbiamo fare una battaglia per ottenere la proroga di questo provvedimento. Sarebbe più utile ottenere l'abrogazione di questo provvedimento che decreta la fine di tanti tribunali e soprattutto di tante sezioni staccate che sono dei presidi importanti come quello di Scalea.